Rinnovare le carte d'identità o avere il primo documento per molti aquilani sta diventando un incubo. Attesi notevoli per il rilascio anche di cinque mesi. Nell'anno della pandemia questo è stato un problema enorme con continuo lamentare da parte dell'utenza. Le richieste di giugno ad esempio vengono evasi a novembre con appuntamenti dati ai cittadini dopo mesi. È la carenza di personale il problema a quanto pare perché come denuncia il consigliere comunale Lelio De Santis ci sono soltanto due persone che lavorano nell'ufficio di Via Roma e un dirigente che fa anche altri settori. Un lavoro enorme da parte degli impiegati ma che purtroppo non riescono a rispondere a tutte le richieste in tempi utili. Più fortunate forse le persone che si rivolgono alle delegazioni sulle frazioni ma anche qui i tempi di attesa non sono brevi. Io pure ho registrato e ho verificato di persone andando in ufficio qual è la situazione. Purtroppo da mesi e mesi non siamo in grado come ufficio Stato civile a NAC di rilasciare tempestivamente le carte d'identità soprattutto quelle elettroniche. Perché non c'è il personale, ci sono soltanto due unità rispetto a quello che sarebbe necessario e stiamo ormai raggiungendo limiti di ritardo insostenibili, ingiustificabili, 5-6 mesi per avere una carta d'identità. Loro ho pregato il dirigente, l'ufficio, l'amministrazione attiva a provvedere perché questo non è un servizio di poca importanza. Evidentemente si vuole privilegiare eventi ed attività che hanno un maggiore risalto mediatico ma una buona amministrazione secondo me si vede dalle piccole cose, dalla capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini, di essere solerte e di dare risposta ai bisogni di servizi e come questo è un servizio essenziale da dare tempestivamente. Io devo ringraziare le due unità che ci sono, che si stanno sobbarcando un lavoro molto gravoso da sole, nel silenzio generale. Mi auguro che a breve questo problema possa essere risolto perché è intollerabile per la città dell'Aquila che si debbano registrare questi ritardi veramente immotivati. Grazie.